Ci siamo, è tutto pronto per l'inizio di questo Lazio-Milan, partita che può essere decisiva per la squadra bianco-celeste, sicuramente più che per il Milan, ma anche il Milan ovviamente deve assolutamente cercare di vincere. Intanto c'è il cross, lo blocca bene Pepe Reina sull'angolo per la squadra rossonera e intanto la Lazio allora si va a ricomporre in avanti, poi con le mani mette in movimento Radu, tocco per Luis Alberto, siamo sempre nella metà campo bianco-celeste, l'apertura sulla sinistra per Lulic, il tocco in avanti, ancora Lulic, bene per Immobile, attenzione, ancora Nelly Corre, Lulic avanti la porta, Lulic, 4-4! GOOOOOO! 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 E' il gol del Tukukurrea che è andato via in profondità dopo un duetto con Giro Immobile, il Tukukurrea si invola sulla fascia di sinistra, entra in area di gore, dribbla il portiere Donnarumma e il filo nella porta sguarnita, Lazio in vantaggio dopo appena due minuti di gioco allo stadio olimpico, Lazio 1-0, il gol del Tukukurrea! Ghiaccio nelle vene per l'argentino, è andato via in slalom, bello il dialogo con Immobile, poi ha fatto secco anche Donnarumma, l'ha messo a sedere ed ha appoggiato con il sinistro con un tocco morbido morbido che ha bucato la porta dei rostonieri, Lazio che è partita così e così, però ecco la prima azione finalmente ha portato a rete e questo non poteva esserci inizio migliore per una gara così decisiva. Rebic, bene, gli tocca bene il pallone, per un attimo il pallone Marusic, poi attenzione ancora si gioca con Luis Alberto che riparte, attenzione pallone per Correa, Correa c'è posizione centrale, uno contro uno, ancora Correa, Correa serie di finte, poi si porta sul destro il pallone in area, attenzione Correa! No! 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 E ma nulla c'è pure questo! E ma nulla c'è pure questo! E raddoppia l'Azio con Lattugo Correa che si beve il difensore del Milan e davanti a Donnarumma lo fulmina in diagonale per il 2-0 dell'Azio. ha inizio ripresa al sesto minuto del secondo tempo, la giustizia regala l'Azio il gol del 2-0 con ancora lui, il Tugu, Correa! Una grande azione nata tutta nel contropiede, poi Correa si è tornato in una sorta di tango con Tomori, l'ha driblato da grande argentino e Tanghero, si è portato la palla sul destro, posizione defilata e finalmente ha trovato un tiro sotto la traversa sul primo palo con grande convinzione, ha beffato Donnarumma, raddoppiato. Radu, Lukas Leiva in avanti, bene per Milinkovic che poi l'ha ancora all'indietro da Cerbi, ancora verso Milinkovic, è partito a destra Marusic, il lancio è per Marusic, bene mette giù con il petto, fa attenzione l'attacco da parte di Lazari, rimide l'area, in moto! E segna lui il bomber con la maglia numero 17 e segna lui Ciruzzo Nostro, il gol di Ciro e la Lazio fa 3-0 al Milan, non poteva mancare il gol del bomber che era stato sfortunato qualche minuto fa, sul palo colpito, su un pallonetto, alla fine ha trovato l'angolo ed è il 3-0 da Lazio e caro Milinkovic Vai a casa, vai! 3-0, Giro Immobile! Grande gol, stavolta la Lazio ha praticamente preso da sedio l'area di rigore del Milan, un'azione che è partita dalla sinistra e è arrivata sulla destra, l'accelerazione di Lazari, poi l'ho vista partire, appena ho visto Immobile caricare il destro, l'ho visto che era quel classico tiro che va a baciare il palo alla destra di Donnarumma e si appoggia, stavolta nemmeno il legno ha potuto dire di no a questa grande giocata. Lazio che stravince in maniera strameritata questo match e si rilancia alla stragrande per la corsa in Champions League.